Ringrazio Maria Antonietta Grignani, che soprattutto nel contesto di oggi non avrebbe, dunque per quanto riguarda i studi su Beppe Fenoglio, non avrebbe bisogno di presentazioni, perché è colei che più di tanti di noi ha studiato questo grande scrittore. Io voglio soltanto ricordare per chi non... Molto storica, preistorica, non preistorica, di Maria Corti, che è stata professore ordinario di storia della lingua italiana, prima a Siena, poi a Salerno-Siena e poi a Pavia, dove ha insegnato per molti anni, e i suoi filoni di ricerca sono innumerevoli, non li sto a ricordare, edizioni di testi, studi linguistici, testi del 4-500, edizioni e commento di testi del 900, da Emilio De Marchi a Umberto Saba, a Carlo Levi, a Eugenio Montara, a Vittorio Sereni, insomma, a Mario Tobino, alla Ginzburg, a Luciano Bianciardi, eccetera, eccetera, e naturalmente Beppe Fenoglio, la sua edizione nelle opere di rete da Maria Corti, uscita in Audi del Partigiano Giorni. è stata direttore del centro di studi della tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei di Pavia, e condirettrice di un'importante rivista come autografo, insomma, non sto a allencare tutti i suoi meriti e titoli. e siamo molto lieti che tu abbia voluto contribuire a questo omaggio che mi pare abbia preso a Torino un avvio molto entusiasta a Beppe Fenoglio, che continuerà domani, come è stato detto, ad Alba, e ti darei immediatamente la parola, Maria Antonietta Grignani ci propone un titolo che suona Beppe Fenoglio, Allora e ancora. Grazie, grazie a Luigi Beccaria, e sono molto contenta di essere stata qua, almeno stamani, perché il mio ancora potrebbe essere ancora più ancora, dopo le belle relazioni che abbiamo sentito e che ho sentito anch'io stamattina, alle quali semmai farò riferimento, ma gli appunti li ho fatti prima di sentirle. Non ho intenzione di fare una rassegna della critica su Fenoglio, perché sarebbe suicida, perché è una critica che sale continuamente di numero e molto spesso anche di qualità, ma soltanto, se ci riesco, di inquadrare le sfortune ben note in vita e le fortune, soprattutto postume, dello scrittore albese nei diversi contesti, diciamo, di ricezione critica e anche di pubblico, se volete, in cui uscirono i libri. L'esordio di Fenoglio, lo sappiamo tutti, è stato ai tempi exeunti, ancora perduranti, del neorealismo postbellico. C'era, da parte di molti, un impulso all'impegno, un problema micidiale della lingua da rinnovare rispetto alla tradizione italiana, a partire magari da macchie o più che macchie di parlato, magari anche con apporto del dialetto, e una grande attenzione alle realtà cosiddette, allora, marginali. Zavattini, che mi piace ricordare, perché era uomo non solo spiritoso, ma anche molto intelligente, aveva detto quasi subito, alla data non me la ricordo, non l'ho segnata, diceva, cito, quando si parla di neorealismo italiano, e lui la sapeva lunga, non bisogna confondere l'effetto di realtà con la coppia di realtà, perché il tentativo vero non è quello di inventare una storia che somiglia alla realtà, ma di raccontare la realtà come se fosse una storia. Calvino, queste cose, con un suo lessico diverso e in un modo più espanso, nella famosa prefazione al suo Sentiero dei Nidi di Ranio del 64, riconoscendo l'eccellenza di Feloglio, che tra l'altro era mancato da poco, disse, scrisse fra l'altro, che non ci furono, come dire, formalisti, più che quei contenutisti che sembravamo di essere all'epoca dell'immediato dopoguerra. Allora, cosa si vede? E lo sappiamo, ma vale la pena ricordarlo. Feloglio, in titolo, alcuni racconti partigiani che presenta, udite udite ai naudi, racconti della guerra civile. Li presenta nel 49 e viene naturalmente rifiutato, non solo per i contenuti che non erano agiografici, ma io starei per dire soprattutto per il titolo. Nel frattempo, lui aveva anche presentato, poco dopo, la paga del sabato. Qui non c'era problema di titoli, neanche di partigiani più o meno scorretti, del quale però Vittorini, che non era contento, volle estrarre soltanto due racconti. Questi due racconti vengono inseriti nella nuova raccolta, che poi uscirà nel 52, col titolo I 23 giorni della città di Alba, fare da pandan ai racconti partigiani. Quindi racconti partigiani da una parte e racconti langhigiani. Vittorini propone un titolo bello, questa volta, racconti barbari, che non piace a Fenoglio. Insomma, alla fine prendono il titolo I 23 giorni della città di Alba e lo estendono a tutta la serie di racconti. Tra l'altro, molto tardivamente, nel 94, a cura di Lorenzo Mondo, sono usciti avventurosamente, lo sappiamo, se la maggior parte di voi lo sa, avventure varie, comprese, patumiere e quant'altro, Pubell, questi appunti partigiani 1944-45, ma solo nel 94. Sono interessanti. Quello che è rimasto sono quattro, mi pare, quattro taccuini, probabilmente, lo dice Mondo stesso, del 46, che per quello che si è salvato, evidentemente erano di più quei taccuini, coprono soltanto due mesi, novembre e parte di dicembre del 44. Sono narrati in prima persona. Sono tipicissimi, secondo me, del neorealismo. Il narrante si chiama ancora Beppe, figlio del macellaio Amilcar. Questa specie di diario, impresa diretta, contiene episodi che poi torneranno continuamente nei due partigiani oppure anche nei racconti. C'è una dilagare del presente scenico per far vedere, che poi far vedere resterà, ma non così ingenuo, in fenoglio. Frasi nominali, anacoluti, il che che chiamiamo connettivo di varie funzioni sintattiche, non so, chi si vanta, io gli tiro un pugno in faccia. Oppure, adesso ti conto di quella che ci sono andato io, e cose del genere. O nomatopee, ma anche residui, per chi voglia guardare bene, da liceo, da buon liceo. a dritta, a manca, mescere, noi diciamo versare il vino, anche in Piemonte, credo, mescere, è toscano. Una volta io in Toscana, ho insegnato a Siena, dissi, ti verso un po' di vino, quello fece un salto indietro, dice, addosso? Ecco, perché loro appunto non usano? A scuola però, mescere, mescere. Il tempo della narrazione, c'è qualche dialettalismo, c'è Rea, saluto, pedanca, brico, alcuni, insomma. Il tempo della narrazione, il tempo narrato, tendono dunque a coincidere. Un romanzo lungo, così, non si poteva portare avanti. E di fatti non lo fece. Restano poi preziose, sono state ricordate, anche stamani, dal caro collega classicista Gianotti, espressioni come le langhe del mio cuore, la nostra grande madre langa, e poi sono presenti già, bisogna tirarli fuori, insomma, dal contesto, analogie o metafore, a seconda delle volte, tipo ondate di colline, il mare, le colline, eccetera. Ma adesso torno ai 23 giorni della città di Alba. Quando noi leggiamo per la presa di Alba, durata per l'appunto, nell'autunno del 44, certe cose, possiamo anche capire che avessero dato fastidio a molti. Tipo, fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise, ce n'era per cento carnevali. Partigiani in uniforme di colonnello, tutto bardato. nomi di battaglia richiamati sui fazzoletti rispettivamente azzurri e rossi. Le ragazze partigiane che, dice il narratore, avevano delle facce e un'andatura che i cittadini presero tutti a strizzare l'occhio. Alla fine la ritirata, avviene la grande pioggia, il fiume che si ingrossa, eccetera, eccetera. Alla fine, i partigiani ripresero a salire. Era spiovuto, i fascisti entrarono e andarono personalmente a suonarsi le campane. Questo è il fenoglio delle narrazioni brevi. Un genio. Genio delle narrazioni breve e difficoltà, come disse lui a un certo punto, e magari lo ricorderò, invece, delle narrazioni lunghe. non ho ancora il passo del romanziere, disse a un certo punto. Comunque, se vogliamo confrontare col parevi due partigiani, insomma, due stesure, tutte e due, non complete, progressive, non c'è dubbio, questo confronto è significativo. Mi sono convinta che l'ipotesi della mia maestra, Maria Corti, sia opinabilissima, ma forse sbagliata. Cioè, che il racconto non sia alla riduzione di capitoli o di episodi dei partigiani, così come leggiamo, no, nelle varie edizioni postume e in due parziali estesure, a me pare ormai del tutto verosimile. Ma quello che importa, secondo me, è che il genere letterario sia incomparabilmente diverso. Appunto, Fenoglio disse mi mancano le quattro marce, ancora, non mi mancano ancora, le quattro marce del romanziere. E allora possiamo guardare alla cosa più antica, geneticamente più antica e cronologicamente, dico io, in questo caso, sì, senza fissare date precise perché non si può, geneticamente più antica della vicenda partigiana. Il cosiddetto Ur, partigiano Johnny, cosiddetto da chi ha curato i testi, non dall'autore, di cui abbiamo quei nove capitoli, peraltro con lacune, ma insomma, lì abbiamo un inglese mescidato con l'italiano, ma l'inglese spesso ha la sintassi italiana, mentre le forme verbali, come è stato ricordato benissimo dalla più parte dei colleghi e anche da Gianotti stamattina, il lessico, l'aggettivazione, le forme progressive, che magari hanno addirittura alle spalle delle forme greche, o l'aspetto neologistico, viene ricalcato, adattato qualche volta all'italiano, ricalcato sull'inglese oppure diciamo di tipo arcaico e anche aulico. C'è una ricerca delle forme adatte a una narrazione lunga, perché i capitoli di questo Ur, partigiano, più inglese che italiano, omicidato, sono lunghi. Se poi noi prendiamo il partigiano quello che chiamiamo uno, la prima delle due stesure in italiano quasi che ci restano, vediamo che i capitoli sono ancora abbastanza lunghi, ma meno. Se poi prendiamo il due nei capitoli che hanno in comune o anche non in comune, la misura si rastrema ancora di più. Dunque cosa vuol dire questo? Vuol dire che Fenoglio immagina inizialmente per se stesso strutture a capitoli lunghi, molto lunghi, poi man mano li riduce ma non ce ne esce fuori come non ce ne usci. La seconda stesura, ma questo è stato ricordato benissimo da Gianluigi Beccaria, per esempio del partigiano, questa volta non dell'UR che è più in inglese e anche ne abbiamo meno come quantità delle due stesure successive, riduce elimina troppi contatti di giorni con la famiglia, con i privati, con gli amici incontrati per strada, con i civili che invece nella prima c'erano, riduce come dire la secondarietà di certi episodi e comincia a puntare sull'essenzialità invece di quello che via via sembra interessarli di più. Non sto a dire quanto i 23 giorni siano stati denigrati da sinistra perché questo è già stato detto ampiamente furono operazioni molto ideologiche col senno del poi e di oggi assolutamente ingenerose e direi anche sbagliate. C'era però una parte della critica italiana che già allora non era d'accordo con questa demonizzazione. Per esempio l'Anna Banti su Paragone che ha apprezzato subito Fenoglio parla della guerra civile cioè riprende quello che forse non sapeva nemmeno forse il titolo primitivo ma così la definisce e così Pampaloni e così De Robertis che dicono magari brevemente in una frase o due nelle recensioni che sono sempre sintetiche delle cose che poi sono state riprese dalla critica e che sono assolutamente vero per esempio De Robertis dice Fenoglio già in quel primo libro di racconti è un realista integrale che ti dà oltre la cosa il sentimento l'ombra della cosa e il suo dato certo lo stile e questa è un'ottima definizione che può rimanere se poi si va a vedere le analogie soprattutto negli schizzi più impegnativi metaforici diciamo tra i racconti che erano usciti e i partigiani che sono rimasti in cantiere per esempio si vede che in pioggia è la sposa che è la storia di quel bambino che aveva importato dalla zia a un terribile matrimonio orrendo in un posto agghiacciante col prete figlio della zia che a un certo punto gli deve dare per finire il cappello poi si spreta ma a posteriori il prete si dice che in cielo dietro la pioggia dietro la pioggia sono raffigurate leggo il testo nubi nere gonfie come dirigibili ormeggiati agli alberi sulla cresta della collina di rimpetto e questo del dirigibile o di cose affini lo ritroviamo più barocco tra virgolette più espanso nei cosiddetti partigiani oppure dell'acqua è detto che scavalcava la proda come serpenti l'orlo del loro cesto ed ecco l'altra immagine che torna anche dopo in contesti diversi fenoglio come è stato ricordato da chi è più molto più bravo di me e più esperto di me aveva una gran passione per il cinema mi piace allora ricordare subito che il presunto finale della seconda stesura del partigiano dove probabilmente alla battaglia di Valtivilla 24 febbraio del 45 Johnny muore probabilmente come si finisce? così due mesi dopo la guerra era finita e questo è il finale di Paesà di Rossellini dove Fellini e Amidei gli avevano fatto la sceneggiatura che è del 46 quindi l'ha visto dovrebbe averlo visto questo film l'ultimo episodio è chiuso da una morte e dalla voce narrante che dice all'inizio della primavera la guerra era finita i 23 giorni della città di Alba come tutto il resto risentono della tecnica del montaggio ma Vittorini questo l'aveva già visto diceva nel risvolto che quella raccolta di racconti 23 giorni sempre è piena di fatti dice lui con un'evidenza cinematografica e in effetti così è vi leggo soltanto vi rilego soltanto una cosa e cioè il finale di Vecchio Blister uno dei racconti appunto di questa raccolta tutto focalizzato sul dettaglio in questo caso sulla raffica che i compagni devono fare perché lui ha tradito lui si è comportato malissimo e che gli buca le mani leggo si misero in due file lasciando in mezzo un largo corridoio come la gente che aspetta di vedere una partita bocce e quando Blister venne a mettersi in cima a quel corridoio si tolsero le armi di tasca e si tirarono un poco indietro poco più in là si legge ma poco più in là invece Blister afferrò quel rumore e capì cioè capisce finalmente che lo uccidono davvero ed è miso un mugolio di quelli che fanno gli idioti che hanno sempre la bocca spalancata poi urlò Raul con una voce che fece drizzare le orecchie a tutti i cani della lunga valle e corse incontro a Seth uno dei partigiani che figurano continuamente che era apparso in fondo al corridoio corse avanti con le mani protese come a tappare la bocca dell'arma di Seth e così i primi colpi gli bucarono le mani Sineddoche mettonimia Sineddoche zoomata se poi uno va a vedere ma ve lo andate a vedere voi se vi interessa il finale di andato al comando titolo con participio passato non una forma finita di Calvino voi troverete qualcosa di molto simile e naturalmente andato al comando di Calvino non ha potuto e non ha voluto imitare Fenoglio perché questi racconti uscirono nel 49 e io credo che Fenoglio non abbia voluto imitare Calvino ma semplicemente per tutti loro funzionava il modello del cinema la malora la malora è stata equivocata da Vittorini gli afrodisiaci dialettali Fenoglio che si offende e che passerà poi dopo a Garzanti un Marcello Venturi che è perplesso per i calchi dialettali critici non del nord d'Italia diciamo critici che agiscono al di sotto del po avrebbero desiderato un glossario e si noti che la malora è del 54 ma un anno dopo cosa esce esce ragazzi di vita di Pasolini che è molto ma molto più gergale romanesco di Borgata con assunzione del romanesco anche da parte del narratore il povero Pasolini che era già stato contestato da Garzanti il quale temeva le denunce tagliò col cuore straziato episodi scavrosi eccetera eccetera ma non riuscì ad evitare la censura erano anni così primavera di bellezza la prima versione molto più analitica la narrazione che si pensa debba protrarsi più lunga la narrazione di cui si pensava di scrivere un ampio seguito la manda questa prima versione ultimi anni di liceo a servizio militare e basta poi arriva la resistenza che sarebbe venuta dopo nel caso Garzanti gli scrive però nel 58 che i primi mi sembra di ricordare otto capitoli ma insomma i primi capitoli non erano mica invoglianti Fenoglio rifà rastrema chiude improvvisamente quando consegna la primavera 59 la primavera di bellezza che poi è stata messa in vendita allora toglie appunto parecchi capitoli o episodi e fa morire Johnny già a metà settembre del 43 con tutto questo si è impedito di andare avanti perché la saga di Johnny non poteva andare avanti se Johnny era morto e nel 59 e inizio 59 non c'era più come personaggio accoglienza ricezione di primavera di bellezza da molti fu letta o come opera in parte squilibrata e lo è perché quel taglio finale improvviso squilibra l'andazzo anche se con tagli che lui aveva già fatto della prima parte diciamo fine liceo e servizio militare oppure come opera troppo fredda così la considerò Montale di cui se credete vi rileggo il passo della recensione oppure anche no perché si trova nella raccolta di saggi di Montale in quegli anni a mio modesto avviso cominciava già a funzionare l'effetto Gadda il particciaccio era uscito due anni prima 57 e i fatti citati Pietro Pietro citati parla della prosa di primavera di bellezza non del partiziano Johnny che non c'era o comunque non era noto così dice la prosa di primavera di bellezza è densissima vabbè concentrata metaforico lirica di tensione metallica ma dice che è da avvicinarsi al Gadda del castello di Udine questo è l'effetto Gadda si sentono insomma a quest'epoca intorno al 60 59 60 i prodromi della neoavanguardia che poi arriva e anche dell'école du regard francese il mare dell'oggettività un saggio famoso di Calvino che è stato scritto se non ricordo male nel 59 è uscito nel 60 però è un saggio molto critico lui si augura non da una parte la prosecuzione di uno pseudorealismo che mal nascondeva l'io ermetico l'io lirico antico cioè un narcisista mal mascherato ma una letteratura dice lui della coscienza anche civica e dice però nel 60 manca la letteratura epica della resistenza notate che negli anni precedenti Calvino fece alcune narrazioni che sono quasi le uniche di impianto chiamiamolo pure politico la speculazione di Lizia e la nuvola di smog volete che vi legga Montale oppure andiamo avanti interessante secondo me lo leggo sono distratto cinque righe a lettura finita dice il grande poeta sul Corriere della Sera a lettura finita resta però il dubbio che l'interesse del documento nel suo libro di Fenoglio primavera di bellezza superi di molto il valore artistico è poco più in là manca nel libro di Fenoglio il senso di una necessità la bravura vi sostituisce il riflesso di una ispirazione che in lui fu certo vero il riflesso dell'ispirazione parentesi il libro ha elementi autobiografici chiusa sua parentesi ma questa ispirazione questo riflesso nel corso del tempo si è alquanto raffreddato perfino la Banti si stupisce ma come questa lingua scabra è anche un po' riottosa molto scelta è quasi tradizionale l'accento un po' severo il racconto conciso rispetto alle pesanti ironie dei 23 giorni ci sarebbe da ricordare anche Pietro Chiodi ma credo che qualcuno lo farà oggi qua quindi non non dico niente ma è interessantissimo quel suo scritto del 65 lo commenterà il collega sì sì comunque resistenza nei materiali dei due partigiani o tre compreso l'Ur Ur partigiano 1 partigiano 2 quelli che restano c'erano e forse ci sarebbero rimaste forti critiche alla resistenza tradita se Fenoglio non avesse prima distrutto non sappiamo quanto e poi non avesse rinunciato al progetto grande nell'Ur partigiano quello più in inglese che in italiano in un anglo italiano così un compagno dice in vista ormai della fine della guerra rimbandamento di fine inverno e poi sarebbe arrivato come sapranno a posteriori e sapremo il 25 aprile tutto il resto dice sarà tanto veleno perché il governo delle cose sarà sempre in mano a quelli di prima non vi fate illusioni Johnny vede sempre lì nell'Ur partigiano certi disertori dal fascismo dalla Repubblica di Salò dell'ultima ora che di colpo sono già diventati elegantissimi aiutanti del capo di nord e commenta allora cito dalla traduzione di Merri che tra l'altro secondo me è bellissima perché è una traduzione quella di Bruce Merri non letteralissima ma fenogliesca cioè ha fatto una traduzione da artista e allora cito da questa traduzione non l'ho detto prima allora era cominciato era cominciato come era naturale era giunto il momento del grande compromesso tanto immorale quanto facilmente prevedibile l'inganno si era messo in moto le ombre avevano preso a barcollare e a ghignare sopra la scacchiera finora nitidamente divisa fascisti antifascisti così allucinante e limpida e già tutta la partita era confusa lordata e bouleversée più chiaro di così si arriva poi al giorno di fuoco alla questione privata purtroppo Fenoglio sappiamo che è morto all'inizio 63 e fino allora si conoscevano i due filoni diciamo che si erano visti a stampa quello contadino e quello partigiano dei racconti e diciamo della primavera di bellezza così come uscita ma soprattutto si conoscevano due risoluzioni formali la narrativa di racconto tutta fatti cinematografica baldanzosa con questo stile pungente però rapido e di grande presa visiva e la terza direi freddezza di primavera di bellezza quella edita nel 59 naturalmente Fenoglio poi scrive a Garzanti tra gli altri e gli passa per la testa fatto morire il suo eroe un altro progetto quello che abbiamo chiamato noi poveretti editori nell'ambito delle cose coordinate da Maria Corti nel 78 dopo aver passato giornate giornate settimane all'archivio in casa della vedova abbiamo intitolato frammenti di romanzo perché è frammentario Isella poi che ha fatto un'altra edizione l'ha chiamato l'imboscata beh è lo stesso nessuno dei due titoli è di Fenoglio dice non ho più in mente non voglio più fare una storia lineare che arrivi fino al 45 cui pensava quando pensava di farcela fare due tomi che peraltro l'editore li aveva rifiutati ha detto no due tomi non va bene o un tutt'uno grande oppure ha tagliato ma invece una storia circolare dice lui con gli stessi protagonisti che aprono e chiudono Milton figlio di Ricchi bello cacciatore di teste solitario elegante quello che conquista la maestra con un gesto molto maschilista per uccidere in realtà l'amante della maestra fascista l'amante fascista della maestra niente non funziona neanche quella viene mollato via anche quello e allora un anno dopo nella primavera del 60 annuncia Garzanti che ha cambiato idea ha ideato un intreccio romantico non sullo sfondo ma nel fitto della guerra temporalità quattro giorni e questo sono ma sono le tre redazioni di una questione privata e ci risiamo in certo qual modo cioè ormai l'inglese è depurato ha lasciato i suoi calchi ha lasciato le sue misure l'italiano antico pur participe presente funzione verbale tutto quello che volete ma nella prima la caccia a un fascista è per scambio con l'amico Giorgio amico amico e non ancora rivale che è stato catturato fidanzato della ragazza Fulvia e amico del protagonista si dà molto spazio alla città di Alba e dunque ai personaggi che anche lì cercano di salvare la vita a questo Giorgio compresi i genitori naturalmente e la curia nella seconda si è già delineato il triangolo amoroso c'è il motivo della gelosia anche se permangono spezzoni dedicati alla ricerca di mediazioni la curia l'impregionamento del genitore ad Alba e cose del genere l'ultima stesura è quella che conosciamo e non la commento perché è un capolavoro tutto si svolge in quattro giorni tutto si svolge sulle colline e c'è quel finale dove ci si augura che Milton crolli sparato morto ma secondo me non è detto perché quando Milton corre come un cavallo sempre più forte con la bava alla bocca gli occhi infuocati come un cavallo lo dice c'è paragone che viene fatto lì e non sono riusciti ancora a prenderlo se corre e a un certo punto trova un bosco come un muro e lì si ferma morto ma allora Johnny deve o non deve morire qualche volta sì qualche volta no insomma lasciamo stare le cose sulla questione privata perché insomma sono state dette ridette meravigliosamente anche da svariati colleghi illustri e presenti qua adesso vengo a dopo il 68 saltando qualcosa perché è chiaro che non si può che sì allora l'edizione del 78 è un'edizione genetica semmai se si è sbagliato si è sbagliato a fare la serie azione sulle presunte date presunte ma la genesi non è così presunta si stampa l'ur partigiano riguarda gli ultimi mesi di guerra fa niente viene prima come stesura da Valdivilla in là poi si stampa la prima con le sue varianti la seconda stesura del partigiano che via via rastremano le proprie misure però ci sono dei buchi di nuovo qua e là per la prima volta si pubbliche i cosiddetti da noi chiamati frammenti di romanzo perché sono frammenti e le tre tesure della questione privata eccetera non è un'edizione per il lettore comune certa critica giustamente rimase perplessa giustamente e accusò Maria Corti e i cari allievi suoi che allora erano giovani anch'io di iperfilologismo accademico il fatto è che gli editori successivi che io sappia non si sono fermati settimane e settimane nell'archivio di Alba hanno rimanipolato la serie azione la compattazione usufruibile come libro vendibile della vicenda partigiana di Johnny con un montaggio come da puzzle chi in un modo chi nell'altro e questo secondo me può anche essere fatto però bisogna dirlo cioè non si può intitolare il libro di Johnny parte prima e parte seconda un qualcosa che mette prima la prima vera di bellezza numero uno non quella edita li fa seguire il partigiano uno dove Johnny non muore non mette l'ur perché come lo metti a chi lo fai tradurre lo lasci in quell'inglese lì lo vendi non lo vendi e però a furia di leggere l'introduzione dell'editore libro di Johnny libro di Johnny libro di Johnny dicono che io l'avevo studiato abbastanza no no non voglio rubare tempo no no mi piace non rubare tempo mi piace molto non rubare tempo e semmai no preferisco concludere così abbiamo tempo per discutere se ne avete voglia altrimenti non dico con me insultarmi se volete anche non importa o anche no critica di allora e critica recente è un tema difficile che non riesco ad affrontare qua perché come vi minacciavo non avevo alcuna intenzione di fare una rassegna della critica che del resto qualcuno ha fatto e non certo faccio io sono usciti degli ottimi lavori non tanto ormai di diciamo stile nel senso del micro stile singoli sintagmi eccetera perché quelli si sono fatti per sorbeccaria avevano gli stessi ma più che altro lavori che puntano su temi che allora non erano se non ho visto male ma neanche da noi erano tanto frequentati per esempio il tema del paesaggio il tema del paesaggio della resa del paesaggio non naturalistica eccetera eccetera è un tema che è venuto fuori più tardi che non allora è un tema invece che secondo me ottimamente il libro di chiesa che è uscito nel 2000 che avrei voluto commentare ma non lo faccio per lasciare spazio a chi ascolta e poi si stanca anche chi ascolta viene affrontato a mio modesto avviso benissimo cioè molto finogliano quel film molto molto finogliano si insiste anche molto con grande intelligenza recentemente penso a uno o due lavori di Giancarlo Alfano che alcuni di voi hanno visto ieri perché c'era ecco e lui dice insomma che tutta la narrativa di Fenoglio rappresenta un protagonista o un soggetto alle prese con una scelta è vero è abbastanza vero e che la triade natura storia soggetto che ha tutta una sua bibliografia anche se a mio avviso meno figura nei racconti e più in quel magma diciamo in quel maxi progetto non portato a termine del partigiano ecco questa triade viene trattata diversamente nel corso del 1900 e questo è molto interessante secondo Alfano sì direi giustamente tutte le opere di Fenoglio sono attraversate dal senso della morte anche il senso del paradiso perduto naturalmente Milton come è stato dimostrato stamani dal collega ma dal senso della morte insomma la guerra non redime ecco la morte è la costante mi hai prenduto fuori anche un po' stamattina è la costante di una idea metastorica che Fenoglio avrebbe scusate non avrebbe ha coltivato in ogni modo cioè sia nelle narrazioni brevi sia nelle prospettate narrazioni più lunghe più più complesse sempre paradiso perduto è sempre guerra che non che non che non redime io vorrei anche aggiungere pensate un po' la paga del sabato sempre resistenza tradita però anche è quello fatto storico non è metastorico il tradimento della resistenza c'è più o meno implicito più o meno implicito quindi oggi non si insiste più su temi ideologici diciamo pure così mentre si è insistito anche troppo all'inizio anche ingiustamente però io non so se sia proprio una virtù 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 è il segno dei tempi io credo dei rapporti metastorici tra bene e male sì sì c'è tutta una filiera che dai classici non osino oltrarmi in quel campo attraversa però le mediazioni al liceo si leggeva anche Tasso si leggeva anche Ariosto e quindi alla fonte tramite mediazioni non saprei dirlo non voglio neanche ipotizzare perché non ho l'immodestia di farlo l'attenzione di oggi appunto è è altra però il libro di Claudio Pavone che io ho riletto recentemente quello del 91 che fu a sua volta ammirato molto per esempio da Foa e da Bobbio ma contestato invece da Nuto Revelli perché si intitolava guarda guarda una guerra civile cosa fa Pavone al di là della sua conoscenza era stato partigiano di Parri lui ed era stato invogliato diceva ho letto un'intervista da Ferruccio Parri a scrivere a mettere insieme i suoi saggi di storico e se vogliamo anche di protagonista dice qualcuno la guerra partigiana l'ha presa come guerra patriottica salvare la patria dei tedeschi con varie sfumature altri l'hanno presa come guerra civile contro i fascisti in questo caso guerra civile ha un senso il sintagma guerra civile ha un senso ci sono dei passi uno è stato ricordato stamani in cui di fronte all'ipotesi fantasticheria se ti trovi un tedesco da una parte e un fascista dall'altra ammazzo prima il fascista che è il nemico di casa il traditore di casa terza possibilità guerra di classe bene a proposito di Fenoglio non si può parlare di questo se non a mio modesto avviso del fatto che mentre nelle opere geneticamente più alte geneticamente anche come stile ma lo stile è importante se ha una certa evoluzione e non un'altra Gadda moltiplica l'espressionismo Fenoglio fa il contrario è sempre così allora le contrapposizioni fra rossi e azzurri non figurano mai le formazioni di parri questo io non so perché ma qualche storico me lo dovrebbe spiegare non c'erano in Piemonte non c'erano sulle Langhe non c'erano non c'erano pazienza peccato vabbè guerra di classe non si può certo dire però l'accanimento del protagonista nei confronti dei rossi nonostante poi famicizia con Tito d'accordo è più forte nelle opere geneticamente previe diciamo così ed è molto meno forte dopo nella questione privata c'è una specie di calibratura tra i festoni che ci mette dentro sono tantissimi perché la storia deve filare come una freccia la storia di amore dentro la guerra i rossi e gli azzurri vengono rappresentati per episodi abbastanza bilanciati cosa era successo era successo come Chiodi ricordò che Fenoglio nel 46 essendo molto piemontese aveva votato monarchia non l'esercito di cui parla malissimo il tradimento dell'esercito c'è subito poi lavorando nella ditta di Vini si rese conto che la vita per molti è dura e allora si avvicinò a posizioni socialiste di questo vorremmo un giorno e l'altro a tener conto grazie 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 tempo piena di spunti piena di sì tu hai detto lascio stare non voglio fare una rassegna della critica però è situato insomma nel contesto culturale del tempo appunto il lavoro il lavorio di Fenoglio in maniera direi quasi completa non si può dire perché il tempo è quello che è ma insomma in maniera da darci dei spunti ancora di discussione o comunque poi è molto anche di peccato che hai rinunciato però ci sarebbe anche interessato sentire quello che pensi ma magari ce lo direi dopo sul film di chiesa certamente è riuscito il partigiano meno a mio avviso per esempio quello dei fratelli italiani dove insomma invece di girarlo in questi paesaggi delle langhe o dell'alta langhe va a girarlo in Valvaraita insomma su questo si potrebbe anche discutere ma non ne abbiamo parlato e poi sì e certamente credo che siamo tutti d'accordo sulle chiuse di Fenoglio e quando tu dici appunto la battaglia di di Villa e Paesà di Rossellini ma insomma Fenoglio era non soltanto perché dal cinema lo prendeva ma è stato uno dei grandi maestri del modo e di aprire e di chiudere le cose che scriveva soprattutto i racconti brevi insomma si potrebbe parlare a lungo e degli incipit fenogliandi che sono fulminanti sono sono di una rientra subito i medias rest insomma e a questi avvi e insomma quanti ne potremmo ricordare non tocca adesso cominciano i racconti come se fossero tutti i fatti e lo so dei fatti straordinari dico tra virgolette dei fatti straordinari dei fatti eccezionali dei fatti ricordate come era fu la peggiore alzata di tutti i secoli ecco della mia infanzia che è la pioggia alla sposa pioggia alla sposa o fu la più selvaggia parata come era della storia moderna e poi i giorni cioè come comincia e poi come chiude come chiude ecco tu hai citato opportunamente il vecchio blister che ha le mani trapassate dalla dalle pallottole insomma ecco e quindi insomma tutta una serie di spunti che poi svilupperemo magari nelle successive se avremo il tempo discussione se ci saranno grazie ancora e inviterei secondo relatore se non sbaglio che sei tu sei Cesare Pianciola che devi venire qua e forse farà ma no può anche di qua se vuoi come rimani nascosto ecco rimani nascosto allora ti metti qui a sinistra perché c'è c'è la computer ecco ecco vieni Cesare Pianciola è un come sapete insomma è un filosofo e vieni è un allievo di un allievo di Pietro Chiodi maestro e amico di Beppe Fenoglio l'abbiamo ricordato più volte stamattina e oggi autore di uno dei più chiodi dico dei più bei libri a mio avviso sulla resistenza Banditi no Banditi che è un libro che tra l'altro narra questa resistenza come tu ci magari lo dirai tu stesso questa resistenza come ha fatto Fenoglio senza retorica insomma proprio come faceva Fenoglio se per esempio vogliamo a proposito della non retorica se vogliamo avvicinare appunti appunti partigiani e banditi pensate soltanto alla quantità di episodi che di una resistenza diciamo prima non retorica e anche con degli aspetti carnevaleschi umoristici che trovi negli appunti partigiani e ritrovi uno dei libri più atroci sulla resistenza ma anche a questi aspetti così umani umanisti come diceva fortini di banditi e di chiodi insomma negli appunti partigiani ricordo bene c'è quel riccio che è armato di un vecchio moschetto da cavalleria e piccar che va in giro sulle colline mascherato con quel casco dice da volatore stratosferico quell'altro che ha le mutande colorate traforate da una raffica dico sempre sempre fenogli appunti partigiani dal lato una quantità in banditi di chiodi non so quando vanno a razziare quel camion di vermut la brigata chiodi una cisterna piena di vermut destinato al comando della Wehrmacht di Torino e i contadini e i partigiani con l'assalto per riempire botti botticelle eccetera tutti i recipienti una cosa carnevalesca questi recipienti vari e finire tutto in una sbronza ecco colossale finale eccetera eccetera insomma quindi ci sono questi poi certamente ma non lo ricordo lo ricorderai tu immagino il ritratto fatto da Fenoglio di Chiodi dal partigiano giorni uno che è un capolavoro insomma e una di più belle poi quante cose del rapporto quel non so se c'è tempo ma lo farai tu forse certamente quando Chiodi tratteggia quel meraviglioso mirabile ritratto di Fenoglio di Fenoglio studente suo quando gli danno quel tema e posso leggere solo due due ti rubo un secondo perché tu non ne parli benissimo allora quando dice io avevo 23 anni dice Chiodi quando giunsi ad Alba per insegnare filosofia e storia al liceo classico Fenoglio ne aveva allora 18 per il 28 ottobre era obbligatorio svolgere un tema ministeriale di elogio della marcia su Roma nell'ora precedente alla mia il professor di italiano aveva dettato il solito insulso tema quando io entrai dice Chiodi in classe notai subito uno studente nel primo banco con le braccia incrociate che guardava annoiato il foglio bianco era Beppe Fenoglio lo invitai a scrivere ma scuoteva la testa preoccupato per le conseguenze feci chiamare il professor di italiano era Leonardo Cocito parlottarono tra complici ma non ci fu verso la pagina rimase bianca mi piace moltissimo questo ritratto di come a tutti noi insomma che Chiodi è professore fa del suo allievo Beppe Fenoglio ma non ti voglio più rubare assolutamente il tempo e tocca Cesare Pianciola parlare di Pietro Chiodi e Beppe Fenoglio scrittori civili ti do la parola grazie vorrei spiegare in due parole il titolo di questo mio intervento Pietro Chiodi e Beppe Fenoglio scrittori civili come si sa Fenoglio scrittore civile è un saggio di Pietro Chiodi uscito nel gennaio del 1965 sulla cultura periodico diretto da Guido Calogero ho pensato di estendere la qualifica di scrittore civile anche all'autore di Banditi e lo considero un suggerimento postumo di Aida Ribero la compagna di Pietro Chiodi che ha scritto una bella testimonianza sulla difficoltà di essere una coppia di fatto con un figlio nell'Italia degli anni 60 coppia di fatto perché Chiodi non poteva sposare Aida in quanto non c'era divorzio e Chiodi aveva un antico matrimonio con la moglie che spesso si trova in Banditi e il titolo di Aida è nel vortice dei diritti Pietro Chiodi filosofo civile sul rapporto con Fenoglio non starò a ripercorrere minutamente fatti noti e che in parte sono stati già accennati c'è l'incontro al liceo classico Govone ne ha parlato già notti facendo anche la lista dei professori Fenoglio era stato allievo di Chiodi in terza liceo nel 1939 40 al primo anno di insegnamento alba del giovane professore di filosofia c'erano solo sette anni di differenza fresco di laurea conseguita nel giugno 1938 con Abagnano Fenoglio già bravissimo a scrivere era l'allievo prediletto di Leonardo Cocito il collega di lettere ammirato da Chiodi per il coraggioso e talvolta spavaldo antifascismo dal liceo di Alba la lotta partigiana all'impiccagione a Carignano nel settembre del 44 Cocito tra il serio e il faceto prognosticava all'allievo Fenoglio un avvenire di grande scrittore il liceo di Alba è rievocato nel nono capitolo di Primavera di Bellezza con Cocito che trascura D'Annunzio nel terrore dei maturandi che dicono come faremo andare alla maturità con D'Annunzio fatto così in breve e il preside che fa il discorsetto finale proprio alla vigilia dell'entrata in guerra dell'Italia i professori Corradi cioè Cocito e Monti cioè Chiodi sono personaggi di rilievo del partigiano Johnny e per ora ricordiamo le righe in cui il protagonista sta per uccidere una spia e si rompe il cinturino dell'orologio per cui lo mette nel taschino Johnny l'aveva sbirciato l'orologio mentre Chiodi esaltava gli stoici e Cocito saltava i piepari oriani per fare Baudelaire fuori programma la parallela vicenda partigiana di Chiodi e di Fenoglio si svolse in zone diverse e non comunicanti Alte Langhe e Monferrato principalmente per Fenoglio le colline del Roero intorno a Brà per Chiodi Chiodi fu catturato dall'SS il 18 agosto del 44 insieme a Cocito ed è portato prima a Bolzano poi in un lager di Innsbruck da cui riuscì fortunosamente ad essere rimpatriato facendosi passare per un lavoratore volontario c'erano Bari lavoratori italiani in Germania e in Austria come lavoratore volontario gravemente ammalato di artrite quando ci furono i 23 giorni della città di Alba della Repubblica di Alba dal 10 ottobre al 2 novembre alla quale parteciparono i fratelli Beppe e Walter Fenoglio Chiodi era in casa dei suoi suoceri a riprendere le forze dopo la deportazione e ricominciò la lotta passato passato l'inverno come comandante del battaglione garebaldino appunto Leonardo Cocito fino alla liberazione di Torino la resistenza ha ispirato non meno l'attività letteraria di Fenoglio che quella di Chiodi non solo banditi anche se da lui era tenuta sotto traccia negli studi propriamente filosofici il rimando alla resistenza è comunque molto evidente soprattutto in sartre marxismo uscito nel 65 da Feltrinelli e dedicato a Fenoglio Chiodi stesso ricorda la incomprensione politica tra loro due appena finita la guerra ne è accennata adesso Maria Antonietta Grignani Fazzoletti Azzurri e Fazzoletti Rossi Monarchico Fenoglio Repubblicano Chiodi al referendum presto però si trovarono insieme ad Alba a difendere la resistenza dai suoi detrattori e tra l'altro firmarono insieme nel 1953 una protesta perché l'amministrazione di Cuneo non aveva concesso una sede per svolgere il congresso dell'Ampi intanto Fenoglio si era spostato come è stato detto adesso su posizioni diciamo socialdemocratiche e insieme dice Chiodi si incamminarono per gli amari sentieri della sinistra non comunista fu una frequentazione diradata quando nel 1957 Chiodi si trasferì a Torino con la giovane compagna Ida Ribero per insegnare storia e filosofia prima Alice Alfieri e poi dal 1963 filosofia della storia all'università come incaricato e infine come ordinario una frequentazione diradata ma mai interrotta perché Chiodi mantenne i legami con Alba basterebbe ricordare la collaborazione di entrambi Chiodi e Fenoglio alla rivista Quattro Soli diretta dal pittore Adriano Parisot o Parisot forse e manteneva questi rapporti stretti con Alba e anche con il paese di origine Corto e Nogolgi in alta Val Camonica dove passava praticamente le estati era un montanaro costretto all'esistenza di pianura come Fenoglio colse così bene nel partigiano Gionni Chiodi si era alzato nella sua orsina massiccità di montanino corretto da anni di esistenza pianurale Chiodi sprizzante innaturalmente anche in riposo intelligenza dialettica e disciplina filosofica si alzò artriticamente appena a casa mi leggo un'oretta al mio Kierkegaard e poi dormo fino al lontanissimo miracoloso domani Gionni si ricordò e disse e ancora con Kierkegaard figlio mio Kierkegaard può benissimo esaurire una vita ecco volevo arrivare qui a questo punto cioè a Kierkegaard al filosofo dell'out-out e al tema della possibilità e della scelta Chiodi in esistenzialismo e marxismo in un articolo su esistenzialismo e marxismo scrisse già Kierkegaard aveva notato come quella di possibilità fosse la più pesante delle categorie sotto questo profilo l'uomo è un essere a cui possono essere tolte o in caso inverso restituite le proprie possibilità ma questo presuppone che l'uomo sia un essere costituito di possibilità e che in queste per queste possibilità ne vada del suo essere stesso alienazione che Chiodi reinterpreta l'alienazione marxista come sottrazione di possibilità umane e e la disalienazione come restituzione arricchimento eccetera il tema della scelta è centrale in Fenoglio scrittore civile riandando a questo testo si possono intanto notare le circostanze in cui fu scritto nel 64 il saggio di Chiodi è già stato detto il 1964 non è un anno qualsiasi dalla letteratura resistenziale nel 63 a due mesi dalla morte di Fenoglio avvenuta nel tra il 17 e il 18 febbraio era uscito per Garzanti Garzanti tra parentesi forse fu Chiodi che mise in rapporto Fenoglio con Garzanti perché Chiodi aveva pubblicato da Garzanti un'antologia del pensiero resistenzialista nella collana sapertutto che i più anziani ricorderanno era uscito per Garzanti un giorno di fuoco che conteneva anche una questione privata un anno dopo ripubblicando dei inaudi il sentiero dei nidi di ragno Calvino scrisse è stato detto ma ripetiamolo che una questione privata era il romanzo che tutti avevamo sognato con cui si era compiuto un'intera stagione il libro che la nostra generazione voleva fare adesso c'è e il nostro lavoro ha un coronamento e un senso e solo ora grazie a Fenoglio possiamo dire che una stagione è compiuta solo ora siamo certi che è veramente esistita la stagione che va dal sentiero dei nidi di ragno a una questione privata ma cosa piaceva a Calvino del racconto di Fenoglio una questione privata scriveva Calvino è costruito con la geometrica tensione di un romanzo di follia amorosa e cavallereschi inseguimenti come l'Orlando furioso e nello stesso tempo c'è la resistenza proprio com'era di dentro e di fuori vera come mai era stata scritta servata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele e con tutti i valori morali tanto più forti quanto più impliciti e la commozione e la furia resistenza ma anche romanzo di follia amorosa Calvino grande lettore di Ariosto che avrebbe raccontato e commentato nel 1970 ne era ammirato la furia di Milton e anche come hanno rilevato alcuni critici l'angelica che fa impazzire Orlando sembra suggerire Calvino mi sembra che Chiodi con il suo saggio fenoglio scrittore civile abbia voluto richiamare il fenoglio che gli sembrava trascurato uno scrittore civile sottratto alla critica letteraria per metterne in risalto il profilo etico-politico lo disincaglia dalle dispute su naturalismo neorealismo eccetera per chiarire piuttosto il rapporto tra la biografia e l'opera non voleva cioè essere una critica letteraria anche se Chiodi bisogna ricordare amava molto la letteratura e nella diotturna opera di insegnante di liceo parlava spesso di scrittori come ricordano i suoi ex allievi nelle testimonianze che sono state raccolte da Beppe Gutier e che ora sono depositate al centro Fenoglio di Alba Chiodi e Calvino si conoscevano bene non tanto però da darsi del tu quando morì Fenoglio sostenuto da Calvino Chiodi ritenne che far parlare l'amico suo di Fenoglio Don Natale Bussi che è stato già evocato ai funerali che lo scrittore aveva voluto laici senza fiori senza soste senza riscorsi fosse una mancanza di rispetto nei confronti del morto e litigò in proposito con il fratello di Beppe Walter Chiodi mandò il suo saggio su Fenoglio a Calvino che gli scrisse il 14 aprile 65 ho trovato perfetto il ritratto per tutto quello che avevo potuto capire io è illuminante per i dati nuovi che mi ha dato e la sua ricerca ad una definizione letteraria mi ha interessato proprio perché lei parte da una diffidenza per i metodi e la terminologia dalla critica letteraria e quasi da un rifiuto del lavoro letterario in quanto a in quello che ha di specifico forse proprio per questo lei giunge a dire qualcosa non solo su Fenoglio ma sul rapporto autore opera di molto pertinente persuasivo nel saggio chiodi parte dalla morte di Fenoglio alle molinette e ricorda il suo coraggio cita i biglietti in cui senza più voce a causa della tracheotomia subita si preoccupava della figlia e la raccomandava anche a chiodi era dice chiodi un impasto di estrema tenerezza e di rigorosa asprezza che caratterizzavano una forma di vita che fa problema che si tratta di indagare l'adolescente aveva sognato di essere un soldato di Cromwell con il suo rigore civile morale e poi ebbe cito sempre chiodi la terribile esperienza che fu la guerriglia nel cuneese da cui nacque lo scrittore a Fenoglio quando uscirono i 23 giorni della città di Alba nel 52 chiodi ricorda come molti e forse anche lui furono urtati da quel suo mondo a prima vista così vuoto delle dimensioni umane e degli atteggiamenti che riempivano la sua vita di ogni giorno dall'assenza apparente dei valori umani della resistenza a favore di una visione antiapologetica e a tratti dissacrante della guerra civile è già stato detto ma è bene citare qualcosa soprattutto la stampa comunista si profuse in recensioni negative sull'unità nell'edizione milanese del 29 ottobre 52 Davide Laiolo che poi negli anni 70 si autocriticò severamente per queste parole scriveva dei 23 giorni della città di Alba pubblicare e diffondere questo tipo di letteratura significa non soltanto falsare la realtà significa sovvertire i valori umani e distruggere quel senso di dirittura onestà morale di cui la tradizione letteraria può farsi vanto stupisce che un editore come i naudi pubblichi roba del genere con partigiani che stanno tra la caricatura e il picaresco raffrontando la produzione letteraria allora conosciuta e la vita dell'autore la chiave principale per intendere Fenoglio secondo Chiodi è la tensione tragica tra la vocazione alla gentilezza della poesia e la brutalità della situazione da assumere per tenere fede a quella vocazione proprio per tenere fede a quell'intento di rendere possibile la gentilezza della poesia bisogna essere crudeli per per difendere con l'ideale della gentilezza della poesia fu una generazione che dovette assumere incolpevole una inesorabile eredita di colpa era il tragico come dice Chiodi interiorizzazione della necessitudo necessitudo e non necessitas probabilmente Chiodi trovò la distinzione nelle notti attiche di Aulogeglio capitolo tredicesimo dove lo scrittore latino registra le due parole e l'uso di necessitudo per i legami basati su patti e promesse come quelle che si fanno per esempio in un matrimonio ma per dire poi Aulogeglio che è pedante distinguere necessitudo e necessitas come fanno i grammatici non così invece per Chiodi interprete esistenzialista e traduttore anti-idealistico di Kant che era ben sensibile ai due significati di necessità che in tedesco hanno due verbi diversi Sollen obbligo morale che implica una libera scelta e Müssen necessità costrittiva come quella delle leggi naturali due significati completamente diversi del non poter non la drammaticità della scelta e le sue ragioni sono espresse in una pagina centrale famosa di banditi e non so se abbiamo il tempo di rileggere Chiodi e i suoi compagni sono rinchiusi nel carcere di Bra in attesa di sapere il loro destino fuori fuori si sentono voci tranquille di passanti e grida di bambini un terribile pensiero mi prende perché mi sono impegnato in questa lotta ripenso ripenso la mia vita di studio al mio lavoro su Heidegger interrotto perché ho abbandonato tutto questo mi ricordo con precisione una strada piena di sangue e un carro con quattro cadaveri vicino al Mussotto il cantoniere che dice è meglio morire che sopportare questo sì è allora che ho deciso di gettarmi allo sbaraglio avevo sempre odiato il fascismo ma da quel momento avevo sentito che non avrei più potuto vivere in un mondo che accettava qualcosa di simile fra gente che non insorgeva pazza di furore contro queste velle una strana pace mi invade l'animo a questo pensiero ripeto dentro di me non potevo vivere accettando qualcosa di simile non sarei stato più degno di vivere nel saggio sull'alienazione in appendice a Sartre il marxismo dedicato come si è detto a Fenoglio che odi scriveva in continuità ideale con questa pagina la campana suona per tutti e suona per tutto l'uomo non si può restare uomini e assistere indifferenti alla disumanizzazione di un altro uomo o di una parte di noi stessi Claudio Pavone è stato evocato da Antonella Grignani nel magistrale primo capitolo sulla scelta del suo grande libro del 91 una guerra civile saggio storico sulla moralità non della ma nella resistenza dove cita Banditi come uno dei più bei diari di vita partigiana ricorda la lettera di un condannato a morte austriaco che si interroga sulla sua scelta di oppositore che lo porta alla morte e arriva a una sola conclusione non potevo fare altrimenti e Pavone riporta anche l'espressione usata da Vittorio Foa quella di disperata necessità Chiodi sulla copia di Banditi donata negli anni 50 a Ida Ribero scrisse come dedica alcuni versi di Brest liberamente tradotti noi venimmo tra gli uomini al tempo della rivolta e con loro ci rivoltammo e noi noi che avremmo voluto edificare sulla terra la gentilezza ecco che ritorna non potemmo essere gentili e così in un modo o nell'altro tutti perimmo e da notare che questo è così in un modo o nell'altro tutti perimmo è un'aggiunta di Chiodi che non c'è nel testo tedesco la scelta della resistenza in armi e della violenza in nome dei valori della pace e della fratellanza è una tragica necessituto da affrontare coraggiosamente un out-out ineludibile che non rimanda a nessuna necessità dialettica hegeliana o marxista iscritta nella storia a nessuna aufhebung a nessun superamento la contraddizione non viene superata ma tragicamente vissuta fenoglio vuole inciso sulla sua lapide mortuaria scrittore e partigiano il grande lavoro filologico immenso lavoro filologico che si è accumulato permette di non confondere la rielaborazione letteraria di fenoglio con la sua biografia effettiva come partigiano per esempio il commissario Nemega non corrisponde alla esperienza reale della sua breve permanenza garibaldina della quale scrisse come noto sono nel settore sbagliato della parte giusta eppure in fenoglio c'è la sostanza della resistenza pur nelle sue tante varietà la scelta esistenziale di dire no di resistere nonostante tutto di resistere anche nel terribile inverno del 1944 dopo il proclama del generale Alexander che annunciava la sospensione di ogni operazione militare in una pagina famosa del partigiano Johnny il mugnaio cerca di convincere Johnny vedo che afferri il punto a che servirebbe d'altronde gli alleati sono fermi in Toscana con la neva al ginocchio e questa situazione permette ai fascisti di farvi cascar tutti come passeri dal ramo al disgelo gli alleati si muoveranno e allora daranno il gran colpo quello buono e vinceranno senza di voi non ti offendere ma voi partigiani siete di gran lunga la parte meno importante in tutto il gioco converrai con me e allora perché crepare in attesa di una vittoria che verrà lo stesso senza all'infuori di voi Johnny alzò il catenaccio mi sono impegnato a dir di no fino in fondo e questa sarebbe una maniera di dire sì no che non lo è grido al mugnaio lo è lo è una maniera di dire sì è già stato ricordato più volte no partigiano come poeta è una parola assoluta è una scelta totale ecco quando il partigiano Johnny uscì nel 1968 è impossibile che Chiodi non l'abbia letto anche se non ne ha parlato nemmeno con Giuseppe Cambiano che era l'assistente in quel momento a lui più vicino e con Lorenzo Mondo come mi confermò telefonicamente lo stesso mondo forse perché nel libro c'è quasi una caricatura di Cocito Cocitoff no e dei partigiani comunisti mentre Chiodi aveva un'autentica venerazione per Cocito come abbiamo detto catturato con lui dalle SS nell'agosto 44 impiccato a settembre e forse il libro lo lasciò interdetto ma non sappiamo al commissario politico Nemega che vorrebbe aggregarlo a un corso di marxismo Johnny replica io sono qui per i fascisti unicamente tutto il resto è cosa di dopo nella immaginaria famosa discussione all'inizio del libro in cui sono messi a contrasto Chiodi e Cocito sull'essenza del partigiano su quali sono i mezzi leciti e leciti nella lotta e se basti l'antifascismo oppure occorra una ideologia rivoluzionaria Chiodi si voltò un'ultima volta e disse con la faccia stanca aggravata dalla barba trascurata ragazzi teniamo di vista la libertà quello che conta non è l'ideologia ma tenere di vista la libertà aggiungo tra parentesi che nella discussione Chiodi e Cocito si contendono l'animo di Johnny come nella montagna incantata o magica che dir si voglia Nafta e Settembrini si contendono l'animo del giovane Castorp ma non so se Fenoglio fosse un lettore di Mann in banditi in data 13 giugno 44 Chiodi scrive in accordo con Luigi Parison bisogna andare il più possibile a sinistra senza compromettere la libertà questo è il Chiodi di Fenoglio il Chiodi che Fenoglio ha amato del quale disse in una intervista pubblicata nel 62 sulla Gazzetta del Popolo il professor Chiodi massimo studioso di Heidegger in Italia sapeva parlare ai giovani a scuola e nelle sale dei caffè e spalancava menti e coscienza dopo la scomparsa di Beppe Fenoglio nel febbraio 63 con Fenoglio scrittore civile Chiodi pensò di scrivere una testimonianza quando dice lui la morte ristabilisce le distanze e lascia essere soltanto l'essenziale qual è l'essenziale ancora oggi per noi alla ristampa di banditi presso l'editore Panfilo di Cuneo alias del partigiano di giustizia e libertà Arturo Felici Chiodi aveva premesso questa avvertenza datata 1960 la presente ristampa si rivolge particolarmente ai giovani non già per far vivere nel loro animo gli odi del passato ma affinché guardando consapevolmente adesso vengano in chiaro senza illusioni del futuro che li attende se per qualunque ragione permetteranno che alcuni valori come la libertà nei rapporti politici la giustizia nei rapporti economici e la tolleranza in tutti i rapporti siano ancora una volta manomessi subdolamente o violentemente da chi che sia è in questo spirito che Chiodi raccontò di Fenoglio scrittore civile e di se stesso anche lui scrittore civile grazie bellissimo per aver direi così arricchito insomma questa giornata dedicata a Fenoglio con questo intervento tuo così lucido e limpido per tanti aspetti che io stia a riassumere malamente dopo la tua bella e completa esposizione insomma quello che ci hai spiegato sul senso vero sì di questa necessitudo di cui parla parla Chiodi che non sempre poi quel passo noi che eravamo nati per diffondere la gentilezza su queste e poi invece ecco e anche questo 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 sul tema della scelta insomma e poi e poi questo avvicinamento non scontro ma comunque disaccordo tra Calvino e Chiodi quello che Calvino vede nella questione privata questo romanzo di follia amorosa eccetera quindi da Riosto che per ogni tempo è dentro la resistenza e questo insiste da parte giustamente la parte di di Chiodi in questo saggio mi sembra del 64 sul Fenoglio scrittore civile l'aspetto più trascurato in quegli anni e il profilo etico politico di per cui insomma questo tuo intervento come anche dalle soglie altre mi ha convinto sempre più che sarebbe bello ogni anno per ogni 25 aprile dedicare una giornata a Fenoglio a leggere Fenoglio in parti varie soltanto del nostro paese insomma ecco facciamolo grazie molte e chiamerei il professor Boggione Walter Boggione ecco sei da questa parte così sei disturbato dal Walter Boggione insomma potrei esimermi da presentarlo professore di letteratura italiana alla facoltà di lettera di Torino è stato uno degli animatori e organizzatori di queste giornate in facoltà e qui e e ad Alba dedicata al centenario della nascita di Beppe Fenoglio per cui lo ringraziamo ancora molto a Fenoglio si è dedicato di Fenoglio si è occupato un libro molto importante dal titolo La fortuna in sfavore che molti di noi hanno letto con molta attenzione e con molto interesse e ne abbiamo discusso anche insieme ti ricordi a proposito di quelle pagine famose rievocate ancora da Antonietta appunto della folle corsa inarrestabile di Milton che chiude quella che chiude una questione privata questa corsa inarrestabile bellissima incalzante un'accelerazione anche sintattica come la costruisce Fenoglio insomma una specie di lo dici anche tu in tuo libro questo vortice anaforico ripetuto che imita questa corsa del cavallo Milton che lo porta a un silenzio che lo porta a una solitudine e quindi la discussione che non finirà mai questo bosco accogliente che si chiude su di lui muore non muore eccetera Fenoglio che ci lascia in questa incertezza tu sei forse più per la morte io magari non so ti dicevo magari se non sono più più per il fatto che possa aprire una nuova vita eccetera ma lasciamo la questione veniamo alla tua relazione che ha questo titolo non dico enigmatico ma insomma ci togli la curiosità perché ci parlerai di ciao vecchio leone il testamento di Fenoglio questo è il titolo che ci propone Walter buongiorno quindi a te la parola grazie Gianluigi il mio intervento in realtà avrà un respiro molto più ristretto di quelli che abbiamo sentito che sono stati dei grandi affreschi complessivi sull'opera fenogliana voglio proporvi una rilettura di uno degli ultimi testi di Fenoglio quello il racconto anepigrafo che è stato intitolato per l'appunto poi da Dante che mi sembra meritare un interesse maggiore un'attenzione maggiore di quella che fino ad oggi è stata riservata dalla critica Alberto Casadei scrive a proposito di questo racconto il racconto ha molto di testamentario lo scrittore cominciava a sentire che la sua morte non era lontana a mio parere si tratta di un vero e proprio testamento letterario da parte di Fenoglio l'incontro tra Nic e Jimmy a quasi vent'anni di distanza dal memorabile evento bellico cui hanno partecipato in gioventù è per Fenoglio l'occasione per affrontare ancora una volta ormai alle soglie della morte i nodi centrali della sua narrativa secondo una linea che è in parte di continuità in parte di innovazione ma cominciamo dalla cronologia interna ed esterna al testo che è fondamentale per capirne il significato Fenoglio è scrittore di solito del tutto alieno dall'attribuire alla propria narrativa una profondità cronologica tanto più nei racconti nei rari casi in cui sono presenti riferimenti temporali valgono semmai a collocare le vicende narrate in una dimensione mitica conosciamo tutti l'incipit memorabile di un giorno di fuoco alla fine di giugno Pietro Callesio diede la parola alla doppietta fu il più grande fatto prima della guerra d'Abissinia Ciao Old Lion è il solo caso in cui sono presenti indicazioni cronologiche puntuali e ben rimarcate oltre ai vent'anni tra uno a cui ho già fatto riferimento ce ne sono altre due la prima a quasi vent'anni di distanza si chiamavano ancora col nome di Battaglia che ritorna sull'occasione anniversaria dell'incontro la seconda riguarda la data della battaglia di Valdivilla questi nemmeno si sognano le cose che abbiamo fatto noi potremmo inchiodarli fino a stasera soltanto col racconto di Valdivilla fissò Nick d'improvviso col volto di chi propone un quiz dimmi quando è successo 25 febbraio 1943 rispose pronto Nick la prima raffica la loro quella che fulminò set partì alle 12 e 15 io non ho mai capito di Sadagio Jimmy come quella raffica prese set e non te era per te quella raffica tutta per te non ho mai capito come l'hai schivata non dirmi che l'hai vista non l'ho vista disse Nick ma l'ho sentita l'ho sentita nascere mi sembra chiaro in considerazione della drammaticità dell'evento che il quiz di Jimmy è del tutto pretestuoso e serve unicamente per introdurre la data dello scontro e come nessuno ha mancato di notare la data è clamorosamente sbagliata quella corretta è 24 febbraio 45 ma non abbastanza secondo me si è riflettuto sulle ragioni della scelta la prima cosa da osservare è che anche il lettore più ingenuo non può non rendersi conto dell'anacronismo la battaglia di Valdiville è un evento minimo insomma che tanti tutti i lettori potrebbero tranquillamente ignorare ma nel febbraio del 43 il fascismo in Italia era ancora ben saldo e l'8 settembre è la resistenza di là da venire si tratta allora di un preciso segnale al lettore di un avvertimento che non può e non deve sfuggire Fenoglio sta contando al contrario sta risalendo dal momento in cui scrive ad una data inventata per rendere possibile la celebrazione di un anniversario che la malattia gli avrebbe negato retrodatare Valdiville al 43 è necessario per permettere l'ambientazione del racconto nell'estate del 62 e quella data con ogni probabilità sarà non soltanto quella dell'ambientazione ma anche della stesura del racconto che in ogni caso è posteriore al 61 come è stato osservato dagli editori dell'edizione Corti per la macchina da scrivere usata da Fenoglio ma perché se non c'è coincidenza tra epoca di ambientazione e momento della stesura tanta insistenza sulle date perché se si tratta soltanto di spostare la vicenda in un anno ancora di là da venire non scegliere allora la data del vero anniversario tutto ciò presuppone che lo scrittore fosse pienamente consapevole che la malattia non gli avrebbe lasciato scampo del resto la confessione fatta prima a Eva Menzio a Bossolasco nell'estate del 62 e poi di nuovo a un ingegnere della Fiat che lavora col fratello Walter dopo il ritorno ad Alba non lasciano dubbi non credo di averne ancora per molto sento di essere arrivato alla fine l'autobiografismo è una costante di Fenoglio e Nick è con il Charlie della Grande Pioggia il suo ultimo alter ego ma in questo caso l'autobiografismo è rilevato con una evidenza straordinaria Nick nel 62 a 40 anni e anche qui Fenoglio si premura che il dato non sfugga al lettore attraverso la correzione dello stesso personaggio non gli diamo gli anni disse Jimmy con innaturale fervore tu ne hai 39 40 precisa Nick è l'età precisa di Fenoglio queste considerazioni rendono ragione di quella che altrimenti sarebbe una stranezza un'incongruenza persino della cronologia del racconto Nick vuol compiere una specie di pellegrinaggio rigorosamente a piedi sui luoghi del passato in una dimensione devozionale dell'esperienza bellica vissuta a Jimmy stupito della sua intenzione di non prendere la corriera risponde questi giri si fanno a piedi o non si fanno a piedi Jimmy come allora si tratta dell'applicazione fedele del proposito espresso da Fenoglio fin dalla sua prima prova letteraria di appunti partigiani di cui abbiamo già sentito parlare chi non conosce chi non è mai stato a cascina della langa vuol dire che di queste langhe lui non può parlare se è destino che io torni borghese faccia onesti soldi voglio presentarmi a quel commerciante o ai suoi eredi a chieder loro di vendermela una volta mia ci passerò tre mesi d'ogni anno che mi resterà se no ci verrò da solo a piedi una volta all'anno un giorno qualsiasi d'inverno e cercherò di riprovare quel freddo di fare pressa poco le cose i passi e i pensieri che devo aver fatti in un'eguale giornata dell'inverno 44 45 subito dietro cascina della langa corre la strada che da bivio maniera sale e scende fino a mango la strada che io ho fatto iersera da mango in su il testo degli appunti partigiani evidenzia in maniera netta la volontà di riportarsi in tutto e per tutto alla condizione di allora volontà ribadita persino dalla perfetta coincidenza dei tempi tre mesi come quelli trascorsi a cascina della langa nel terribile inverno del 44 ma perché allora in ciao al lion non fare il pellegrinaggio nell'inverno magari nella data esatta della battaglia di valdivilla perché anticiparlo alla fine dell'estate ad appena 40 anni di età fenoglio ha ben chiaro in mente che quell'anniversario 25 febbraio 1963 coinciderà più o meno con la data della sua morte 18 febbraio e che per questo è necessario anticipare la fine del cammino di scrittore di fenoglio coincide in maniera perfetta con il suo inizio il luogo in cui Nick è diretto è lo stesso in cui Beppe di Alba si propone di tornare in quella prima prova giovanile ma al procedere descrittivo degli appunti la strada che da bivio maniera sale e scende fino a mango si sostituisce nel racconto un'attitudine mitizzante come segnale in particolare il ricorso all'uso predicativo alla latina dell'aggettivo alto uso carissimo al fenoglio epico leggiamo stettero un altro po' in silenzio poi Jimmy ma dove andrai se sei a piedi non potrai fare un giro dovrai dirigerti in un posto ben definito infatti mi piacerebbe proprio sapere che posto è deve essere un posto importante per te se esso vale per tutto un posto come un altro disse Nick una parte per il tutto dimmi che posto è domandò Jimmy con vero interesse è il bivio di Manera spiegò Nick non proprio il bivio ma quella strada che dal bivio parte per la collina alta verso Mango Cascina della Langa si trova a circa due chilometri dal bivio di Manera proprio sul punto più alto del crinale come dice il nome stesso del luogo Langa è in dialetto piemontese la cresta della collina da Cascina della Langa si scorgono Mango e proprio sulla cresta di fronte Valdivilla i due luoghi sono strettamente collegati nell'immaginario di Fenoglio si tratta per chi quell'esperienza non ha vissuto di un posto come un altro per Nick e per Fenoglio di un posto unico quello in cui si compendi al senso stesso della propria vita Jimmy capisce immediatamente che per Nick quel posto vale per tutto ma non credo che la battuta successiva di Nick una parte per il tutto voglia ribadire soltanto quello che è già stato detto prima da Jimmy attraverso le parole di Nick Fenoglio ricorre alla definizione abituale della sineddoche per affermare il carattere esemplare della propria scrittura la pretesa di superare le minime contingenze delle vicende narrate per raggiungere il tutto che è il significato o il non significato dell'esistenza umana in questo modo la fedeltà al dato biografico esibita si incontra con il valore assoluto che attraverso la scrittura quell'esperienza viene ad assumere lì ha sfiorato l'incontro con la morte ha sperimentato l'assurdo dell'esistenza l'ingiustizia che la caratterizza la pallottola di Valdivilla era destinata a Nick ma Nick l'ha sentita e in qualche modo è riuscito a evitarla la sua salvezza però si è tradotta nella ferita al piede di Seth e nella morte di Tarzan ora il conto rimasto in sorspeso sta per essere pagato prima però Fenoglio fa per l'ultima volta i conti con quell'evento sono persuaso che da quel trauma abbia avuto origine la decisione stessa di scrivere in una famosa lettera citati del 59 leggiamo io non scrivo per competizione per quanto la sportmanship sia un evidente aspetto del mio carattere alla ridice del mio scrivere c'è una primaria ragione che nessuno conosce all'infuori di me con ogni probabilità secondo me la primaria ragione è quello che è successo a Valdivilla su quella battaglia Fenoglio torna tante volte nella sua opera le testimonianze orali convergono anche sul fatto che quell'evento lo ossessionava lì Fenoglio ha vissuto uno shock personale terribile ma lì anche è diventato scrittore la sua opera tutta la sua opera è un continuo corpo a corpo con la scrittura per indagare analizzare chiarire il mistero tragico che è nella vita in ogni vita la parte per il tutto senza mai arrendersi credo che su Valdivilla sui diversi modi in cui quel fatto è stato narrato qualcosa ancora possa essere aggiunto al molto che è stato scritto ma lo rimando ad altra sede qui mi limito ad osservare un solo aspetto e cioè che ciò che nelle opere precedenti appariva come frutto di casualità ingiustizia assurda e insensata qui invece trova in qualche modo chiarezza e giustificazione non voglio dire che Fenoglio non partecipi del senso di colpa di tanti dei sopravvissuti per l'immotivata fortuna che è toccata loro ma al punto di vista di chi non capisce non sa darsi conto di quel che è successo in Ciao Old Lion è quello di Jimmy non quello di Nick è Jimmy che fa osservare come quella raffica fosse destinata a Nick non a Seth e che non capisce come sia stato possibile che Nick si sia salvato questi si limitano ad osservare di averla sentita nascere di aver trovato dentro di sé in un modo che non sa spiegare l'istinto di salvarsi quella salvezza però ha comportato come necessaria conseguenza l'impegno di un'indagine durato tutta la vita una missione mai interrotta di testimonianza fin dalla dedica degli appunti a tutti i partigiani d'Italia morti e vivi mi sembra degno di attenzione che il racconto cominci in una maniera singolare concentrandosi su un atteggiamento di Nick il rifiuto di guardarsi intorno di cui poi non si offre alcuna spiegazione né sul piano narrativo né su quello psicologico che cominci vorrei dire con una digressione dalla stazione andò diretto all'hotel centrale erano non più di 200 passi e li fece quasi a occhi chiusi non vodeva veder nulla della città nulla dall'interno di essa nulla in dettaglio l'avrebbe ampiamente riveduta dall'esterno nell'insieme dall'alto e ricordava che un eccellente osservatorio era la prima svolta della salita alla frazione Como tante volte Fenoglio affida ai momenti in apparenza insignificanti meno legati alla storia che sta narrando la funzione decisiva di offrire le coordinate di lettura il punto di vista delle precedenti descrizioni di Valdivilla soprattutto le prime era un punto di vista interno volto inutilmente ad inseguire i dettagli la conseguenza era un'impressione di caos l'impossibilità di capire qui invece c'è la tipica prospettiva postuma fenogliana per capire occorre un distacco assoluto uno sguardo dall'alto e dall'esterno attento a evitare la trappola del coinvolgimento emotivo emotivo nel racconto è Jimmy anche lui avverte l'importanza di Valdivilla ma vi ripensa unicamente in funzione dei sentimenti estremi che vi ha vissuto e che ritiene sufficienti a garantirgli un ruolo privilegiato rispetto alla smidollata gioventù contemporanea riferendosi ai camerieri dice questi nemmeno si sognano le cose che abbiamo fatto noi potremmo inchiodarli fino a stasera col racconto di Valdivilla per Jimmy Valdivilla è un trofeo da esibire in società per Nick l'evento che ha segnato tutta la vita in Ciao Old Lion Fenoglio riprende tantissimi dei motivi della sua produzione precedente l'arrivo in treno alla stazione l'ambientazione al caffè Savona la contemplazione di Alba dall'alto come quella di Agostino nella Malora le ore segnate dall'orologio pubblicitario l'importanza del nome di battaglia le spalle spioventi in un modo del tutto particolare di Nick che ripetono l'aspetto di Milton alto scarno curvo di spalle la staffetta Meris un po' troppo tutto fare ricorda la staffetta Claudia degli appunti partigiani la marcia in nove all'ora che è quella che iperbolicamente arriva nelle parole dell'eroicomico sceriffo di solitudine ai 60 all'ora e potrei andare avanti a lungo anzi si può dire che non ci sia quasi passaggio del racconto che non trovi un corrispettivo nella precedente produzione di Fenoglio anche da questo punto di vista siamo di fronte a un testamento la migrazione di situazioni espressioni personaggi da un testo all'altro è come sappiamo da Maria Corti una costante di Fenoglio ma qui ricorre con una sistematicità che davvero ne fa un caso estremo di particolare rilievo allora entro questo sistema organico di riprese risultano i cambiamenti pochi circoscritti ma tanto più evidenti in quanto inseriti in un tessuto ben noto e sperimentato e che dunque a me sembrano decisivi per l'interpretazione del racconto cominciamo dalla vicenda sentimentale anche in Child Lion c'è il triangolo amoroso caratteristico di Fenoglio fin dai tempi della voce della tempesta e di Serenata Bretton Knox triangolo sbilanciato in cui il protagonista si trova in una condizione di inferiorità fisica e sociale rispetto all'amata e al rivale ed è dunque destinato a soccombere da questo punto di vista non cambia nulla Nick è un modesto impiegato lo stesso lavoro di Fenoglio presso la casa vinicola Calissano le vendite all'estero Jimmy è un avvocato benestante che gode di grande prestigio come testimoniano le attenzioni persino esagerate la deferenza con cui lo trattano i camerieri benestante e di buona famiglia è anche la donna che Jimmy ha sposato J.G. Arnulfo il contesto del corteggiamento che è il ballo e il tratto fisico che caratterizza la donna le trecce fu il primo ballo della serie la ragazza era l'unica che portava le trecce la qualificano con chiarezza come l'erede di Fulvia anzi l'insistenza sul dettario delle trecce istituisce un evidente legame con un testo di incerta collocazione e datazione quello riedito poi da Buffano col titolo l'incontro che narra il primo incontro dello scrittore con Fulvia in occasione di una partita di pallacanestro proprio come nel romanzo postumo insomma Jimmy e Gege sono i corrispettivi nel dopoguerra di Giorgio e Fulvia in una questione privata esattamente come Nick è già dalle spalle il corrispettivo di Milton ma ne sono i corrispettivi degradati integrati come sono in una dimensione borghese volta unicamente al profitto economico e al benessere che Fenoglio disprezza Maria Antonietta Grignani ci ricordava molto bene prima l'aspetto del giudizio sul dopoguerra che in Fenoglio è molto più importante di quanto noi siamo ormai abituati a ricordare degradati fin dal nome come denunciano i due vezzeggiativi insopportabilmente leziosi Gege e Jimmy ma un po' di attenzione merita anche il vero nome di Jimmy Guido Clerico le iniziali sono le stesse dell'antagonista di una questione privata Giorgio Clerici ma il semplice passaggio dalla forma plurale del cognome che ad Alba e nell'Albese non esiste ed è propria di diverse famiglie nobili a quella singolare Clerico che invece è una tipica forna albese testimonia con chiarezza questa caduta ecco e anche il nome della donna Arnulfo è un tipico cognome locale basta questo ad escludere i personaggi dalla dimensione del sublime che occupano invece nel romanzo non stupirà allora che anche l'aspetto fisico subisca nel racconto un analogo processo di degradazione ho già ricordato come Gege rispetto a Fulvia abbia perduto il tratto che ne incarna la bellezza le trecce ma con Giorgio il tempo è stato ben più feroce pareva avesse perduto qualche centimetro di statura era calvo per i tre quarti del cranio e pingue di una pinguedine schioccante e lucida aveva acquisito in breve caratteristiche meridionali la trasformazione emerge in tutta la sua evidenza se teniamo a mente alle spalle la descrizione della coppia in una questione privata Giorgio era il più bel ragazzo di Alba ed anche il più ricco ovviamente il più elegante nessuna ragazza di Alba era in grado di fare da pandan a Giorgio clerici arrivò da Torino Fulvia e la coppia perfetta fu formata Fulvia ha perduto le trecce Giorgio addirittura i capelli l'eroe bellissimo elegante atletico si è trasformato in un ricco borghese calvo e grasso la forestiera Fulvia l'unica in grado di fare da pandan a Giorgio in virtù del suo fascido di cittadina è diventata fin dal nome G. Giarnulfo una borghesuccia di provincia che passa l'estate al mare a Spotorno con le due figlie ma il dettaglio più significativo quello che consente di misurare in tutta la sua piezza il batos che si è aperto tra Giorgio e Guido Gimmi è l'aggettivo meridionale non si può non pensare subito al partigiano a un passaggio famoso dove il disordine l'approssimazione la trasandatezza della guarnigione di Montbarcaro sono contrapposti allo spirito settentrionale e puritano di Gionni Gionni se ne risentì stupì e accorò terribilmente tutto aveva da essere così nordico così protestante è chiaro allora che la trasformazione di Guido la sua acquisizione di caratteristiche meridionali ne segna la definitiva esclusione dalla dimensione epica della guerra già peraltro anticipata dalla scelta di un nome di battaglia così poco eroico come Gimmi a sancire la perdita di aura del personaggio maschile stanno anche altri dettagli dal sudore dovuto al caldo ma soprattutto al nervosismo al fatto soprattutto che benestante com'è finge di dimenticare di pagare il conto e lascia che a offrirgli la consumazione sia Gimmi vederti mi ha fatto meglio del whisky a proposito del whisky Flaringly accennò a ritornare mentre le mani cincischiavano alla ricerca del portafoglio lascia stare disse Nick ti dico di lasciar stare ciao Gimmi l'agitazione quasi orgasmica di Guido il sudore che gli imperla la fronte gli incolla i pantaloni al sedere si oppongono all'olimpica serenità di Nick tu non sudi e gli fece non ho di che sudare rispose il prosaico saluto finale ciao Gimmi che ripete quello che aveva aperto il racconto quasi incorniciandolo si oppone al saluto rivolto a Nick da Guido ciao old lion anche Nick è invecchiato in più a differenza di Guido è stato sconfitto dalla vita gli ideali per i quali ha combattuto sono stati dimenticati e traditi nell'Italia del dopoguerra e ne è pienamente consapevole come amaramente sancisce la battuta finale mi chiamava old lion con convinzione eppure se ne è accorto sicurissimamente che sono un fallimento la sua incapacità di adattarsi al mondo borghese è simbolicamente rappresentata attraverso l'incidente in macchina in seguito al quale ha smesso di guidare così privandosi di quell'autentico status symbol della modernità che è l'automobile e anche questo è molto autobiografico racconta Margherita sempre di quanto guidasse male suo padre e gli è stato raccontato incidenti terribili insieme con Cerrato insomma a rimettere sulla macchina dopo averla cappottata esattamente come qui insomma anche il personaggio appunto di Nick è quello di un fallito ma come in tanti altri casi nella narrativa fenoliana su tutti quelli dell'Agostino della malora assegnato dalla sfortuna in favore il fallimento non sancisce la definitiva sconfitta del personaggio e soprattutto non sancisce la sconfitta dei valori che incarna che anzi diventano ulteriormente rafforzati la sua sconfitta diventa la garanzia di onestà etica e intellettuale è lui a pagare il conto per Guido è lui a pagare il conto per tutti la medesima volontà di coerenza e di intransigenza etica si manifesta nelle scelte politiche Nick vota Nenni e indovina a colpo sicuro che Guido vota Saragat per comprendere ebbene non dimenticare che nel dopoguerra Saragat fu accusato da Paglietta di essere un traditore del socialismo e che proprio all'altezza cronologica del racconto il partito socialdemocratico era entrato nel secondo governo Fanfani il primo governo di centrosinistra governo del quale invece i socialisti guidati da Nenni rifiutarono di far parte è così che Nenni fiero oppositore non solo del patto atlantico ma anche dal punto di vista di Fenoglio del piano Marshall Nenni che pochi anni prima aveva abbandonato l'iniziale politica filosovietica e dopo la rivolta di Ungheria si era definitivamente staccato dal partito comunista russo diventa il modello politico di riferimento per Nick Fenoglio del tutto estraneo all'ideologia comunista ma amareggiato come ricordava prima la Grignani dallo sfruttamento delle classi sociali più deboli polemico nei confronti dell'Italia del boom economico appiattita sul modello americano basta ricordare di passaggio l'incompiuto progetto di sceneggiatura cinematografica quasi coevo a Ciao Old Lion dove i contadini delle langhe deprecano l'avvento della chimica nell'agricoltura e si scagliano contro la predilezione che i giovani hanno per la Coca-Cola rispetto al vino così il lavoro in una ditta di Eximport si configura per Nick non tanto come un'attività economica ma come l'occasione per esercitarsi nelle lingue come conoscevi tu le lingue gli dice Jimmy anche questo è un motivo ben noto al lettore di Fenoglio che trova ancora una volta un precedente diretto in una questione privata Fulvia questo è un dio in inglese solo all'ultimo Fulvia aveva sollevato gli occhi a Milton e i suoi occhi dicevano che quello Milton poteva essere tutto tranne che un dio ma lì è l'occasione per un abbassamento del personaggio bravissimo in inglese certo Milton traduttore affabulatore affascinante per Fulvia ma irrimediabilmente brutto destinato a soccombere nell'impari confronto con Giorgio in Ciao al Lion invece Nick è rimasto giovane si è miracolosamente sottratto oltre che al proiettile di Valdivilla all'azione distruttrice del tempo Guido non può non essersi reso conto del suo fallimento eppure continua a chiamarlo con convinzione Old Lion e lui l'eroe ultimo a dispetto degli anni mantiene il passo energico dei tempi della lotta il vigore guerresco di allora suscitando l'ammirazione senza riserve di Guido che lo paragona a un marine americano uno di quelli che la guerra nel Pacifico l'hanno fatta sul serio c'è in lui un'energia che ne fa una forza della natura impossibile da annientare appariva fatto non di carne ma di corteccia Jimmy parla della guerra e dei luoghi ad essa connessi con nostalgia ma come di un paradiso definitivamente perduto guarda le colline e le pensa dall'esterno da lontano soddisfatto della quieta condizione di pace borghese si sta bene qui fuori di sera col reifolo che scende dalle colline che furono nostre Nick ha rinunciato a due giorni di ferie per tornarci come Johnny nuovamente a piedi verso le Top Hills e mi ha fatto un po' d'impressione vedere su internet mentre ricordavo il passaggio ma non il punto preciso che Top Hills è diventato il nome di uno dei nightclub più famosi d'Europa in Montenegro è veramente un destino spietato qualche volta anche in queste piccolissime cose l'aggettivo indica non soltanto l'altitudine ma la tensione etica verso l'alto che il personaggio persegue e solo in questa prospettiva di opposizione tra un movimento verso l'alto che è anche di nobilitazione morale e uno di discesa che sancisce la perdita della dignità si spiega un altro passaggio che altrimenti sarebbe ingiustificato quello in cui il narratore contrappone Guido che scende dagli scalini dell'hotel centrale a Nick che mantiene il suo posto in alto lui solo lui scese il primo scalino l'immagine sembra suggerire una lunga scalinata ma chi è stato ad Alba sa che l'hotel centrale del racconto è l'hotel Savona separato dal livello della piazza da due scalini mi sembra che l'infedeltà al dato realistico sia significativa Nick continua ad essere quell'eroe della libertà che Guido non è più l'erede ultimo di Johnny davvero come lui partigiano in eternum è in quest'ottica che si spiega l'altro fondamentale scostamento che Fenoglio mette in atto rispetto alle precedenti o quasi coeve opere resistenziali cui pure il racconto è legato da tanti fili mi riferisco al destino ultimo del protagonista ne ha parlato prima Gianluigi ne ha parlato prima Maria Antonietta Grignani ribadisco la mia idea sui finali insomma il Johnny di primavera di bellezza e il Milton dell'imboscata certamente muoiono sulla sorte del Johnny del partigiano e del Milton di una questione privata c'è stata una lunga querelle troppo nota perché ci debba tornare e comunque ho già espresso altrove la mia convinzione che anche loro muoiano ma la loro morte non sia presentata nei termini abituali di una morte non sia presentata come una sconfitta definitiva con una ambiguità che costituisce certamente il dato più importante quello perseguito da Fenoglio sia Johnny sia Milton sia Nick sono personaggi trasparentemente autobiografici attraverso i quali Fenoglio riflette su di sé e sulla propria esperienza resistenziale ma Johnny e Milton muoiono in situazioni che ripetono l'archetipo della battaglia di Valdivilla laddove Fenoglio che in essi proietta la propria personale esperienza a Valdivilla era sopravvissuto Nick invece non solo sopravvive alla battaglia ma sopravvive al suo stesso autore non dimentichiamoci che Fenoglio sta morendo in questo momento per questo lo rappresenta come eternamente giovane vigoroso pronto a dispetto di tutti i fallimenti della vita a risalire verso le alte colline e a testimoniare con il proprio gesto la volontà di resistere sempre e comunque al fascismo al male della sopraffazione dell'uomo sull'uomo in qualunque forma storica esso si rappresenti a maggior ragione allora si può dire di lui quello che Giorgio Barberi Squarotti ha detto del Milton di una questione privata l'invulnerabilità non è una qualità dell'uomo ma di quel semidio della guerra che è l'eroe la conclusione della corsa è nella sicurezza completa della collina del bosco che è il luogo che gli compete dove l'eroe solitario può fermarsi dopo aver definitivamente fuggito non soltanto allora la morte ma anche l'amore la città la vita prima della lotta le amicizie e i rapporti di un tempo davvero Nick sceglie la collina in totale solitudine come alternativa definitiva e radicale rispetto alla vita di prima a differenza di quel che aveva fatto fino a quel momento l'ultima volta in cui Fenoglio ritorna su Val di Villa sceglie risolutamente di presentare con le stimmate dell'eroe non il personaggio caduto sconfitto ma stavolta il sopravvissuto di presentare se stesso in veste di eroe senza la necessità di fingersi come sempre aveva fatto quale vittima del destino incrociando la sua storia personale con la storia dell'amico caduto Tarzan Dario Scaglione ma può permettersi di farlo perché l'imminenza della morte ha vinto il senso di colpa del sopravvissuto perché i fallimenti biografici hanno cancellato ogni tentazione e ogni traccia di orgoglio quell'orgoglio che Johnny tante volte manifesta nella sua avventura la contiguità con la morte rende superfluo ogni travestimento il privilegio concesso agli ingioventù dalla sorte sta per essere pagato e a caro prezzo alla luce di quello che ho detto si dovrà prestare attenzione anche alla particolare intonazione stilistica del racconto non il grande stile l'oltranza espressiva ardua da intendere impresentabile del partigiano Johnny trasudante di sonoro orgoglio non la resistenza serbata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele e con tutti i valori morali e la commozione e la furia dell'intreccio romantico di una questione privata le due citazioni sono del nostro presidente Gianluigi Beccaria che le ha descritte in maniera splendida ma una lingua quasi banale essenziale dove pure le parole del lessico quotidiano si caricano di una valenza simbolica fortissima qui ad imporsi in questo racconto e ad essere decisivo è il non detto il sottinteso non l'iperbole e l'enfasi ma l'ellissi e la vera cifra stilistica del racconto e il lettore è chiamato a un partecipe faticoso lavoro di decrittazione spesso a posteriori di ciò che è apparentemente insignificante e su cui Fenoglio invece insiste lasciandogli intendere che anche lì lì soprattutto e non sulle chiacchiere di Jimmy e sulla meschina rappresentazione di una realtà borghese di provincia si dovrà fermare la sua attenzione talvolta lo spazio lasciato al non detto è tale che anche dopo la lettura dell'intero racconto al lettore rimane qualche dubbio si domanda quale sia l'esatto significato da attribuire a dettagli ne cito uno solo la lunga marcia erano gli anni insomma di Maho ma poi c'erano un'espressione che richiede ovviamente una riflessione lunga che qui non posso fare il cui peso pure è notevole e del tutto sproporzionato rispetto alle esigenze narrative siamo di fronte a un sublime nuovo diverso un sublime che non sta nella varietà del lessico nell'imprevedibilità dei costrutti nella tensione ora drammatica ora sentimentale ma nella composta dignità dell'eloquio segnato dalla misura dalla lentezza dalle riprese con cadenze quasi di litania Jimmy started vuoi dirmi che ci andrai in corriera a piedi Jimmy started a piedi è il sublime dell'eroe sconfitto dalla storia pienamente consapevole del proprio fallimento ma che non per questo rinuncia ai valori che lo hanno mosso che alle soglie della morte del nulla rivendica senza orgoglio ma con fermezza l'importanza e il significato della propria esperienza esistenziale e letteraria è già stato ricordato partigiano e scrittore le uniche due cose che per Fenoglio importassero anche in questa condizione liminare lo sguardo continua ad essere tutto rivolto verso la vita come per il medico durante del paese il problema che ancora è sempre per Fenoglio un problema etico riguarda non l'aldilà ma l'aldiquà ma non è più irrisolto perché tutto è chiaro ora agli occhi di Nick Fenoglio è scrittore privo di dimensione trascendente e il suo attestamento letterario è un bilancio della propria esperienza di partigiano e di scrittore un fare i conti una volta per tutte con l'assurdo e la violenza che l'hanno segnata ma è soprattutto la rivendicazione del valore e del significato esemplare che essa ha in una prospettiva etica di resistenza in eternum al male tali da fare di Fenoglio stesso autore e personaggio insieme un modello eroico capace di vincere il tempo adonta ma vorrei dire in virtù dei suoi fallimenti biografici grazie applausi 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 molte grazie Walter per questa tua sottile come dire articolata diramata lettura di un racconto fenogliano come adesso ho capito come testamento ecco dicevo prima come testamento c'è un testo che contiene che 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 ripercorre quello che ha scritto e quello che ha compiuto dunque insomma davvero una parte per il tutto quello che è stato poi il titolo che è stato proposto per questo per questo ciclo per questa queste giornate di convegni una circola un racconto come circolarità come profezie è come come è come è stato valdivilla tu dicevi prima insomma la centralità di valdivilla la 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 che fu un impulso allo scrivere che è stato eh quel trauma che poi dicevi appunto spiegavi che lo porta che lo porta a diventare scrittore a la ragione che soltanto lui conosceva eh è stato detto e si chiude con questa relazione questa giornata intensissima dedicata a Beppe Fenoglio non è così tardi sono le cinque se come si era detto eh da parte dei relatori da parte del pubblico c'è il desiderio di 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 chiedere chiarimenti di chiedere delle cose di comunicare notizie che mi sembra stia per fare o voglia fare la la signorina insomma abbiamo tutto il tempo per farlo possiamo far circolare un microfono gli stessi relatori possono venire a risiedersi a questo tavolo per rispondere a eventuali domande e per concludere insomma spero con reciproca soddisfazione questa questa ricca mi pare giornata che abbiamo dedicato a questo nostro grande scrittore forse voleva comunicarci qualche cosa volevo comunicarvi un messaggio che è arrivato proprio per lei professor Beccaria per il professor Boggione e gli organizzatori del convegno l'ampi nazionale ci ha mandato al centro studi Fenoglio un messaggio proprio oggi l'ampi nazionale e l'ampi provinciale di Torino sono lieti di portare il loro saluto a questo importante convegno dedicato a Beppe Fenoglio in occasione del centenario della nascita siamo certi che gli autorevoli studiosi qui riuniti recheranno un prezioso contributo la migliore conoscenza della personalità e dell'opera dello scrittore e siamo altrettanto sicuri che grande attenzione sarà riservata alla sua narrativa di argomento resistenziale perché la vocazione letteraria di Fenoglio trae origine e ricava costante ispirazione proprio dalla sua esperienza di partigiano combattente la memoria di Beppe Fenoglio ci è cara in quanto egli fece parte delle decine di migliaia di uomini e di donne che presero le armi per porre fine alla vergogna del fascismo per liberare il nostro paese dall'occupazione nazista e per costruire un futuro di libertà di uguaglianza e di solidarietà e di pace ma gli siamo grati anche perché nei suoi racconti e nei suoi romanzi dai 23 giorni della città di Alba primavera di bellezza da una questione privata al partigiano Johnny ha restituito una rappresentazione della resistenza non retoricamente celebrativa non ipotecata da assunti ideologici e nemmeno costretta entro uno schema inegualmente manicheo le opere di Fenoglio proponendo un'immagine di chiaroscuro della resistenza narrando le virtù e le debolezze di coloro che ne furono protagonisti non hanno sminuito il valore e il significato della lotta di liberazione ma ne hanno esaltato la moralità e l'epicità a Fenoglio come ai suoi coetanei Calvino e Meneghello va perciò riconosciuto il merito di avere sottratto la resistenza alla dimensione della leggenda e di averla consegnata alla vita reale e alla storia attualizzandone l'insegnamento e rendendola patrimonio inalienabile dello spirito repubblicano vogliate accettare il nostro caloroso augurio di buon lavoro grazie per questa comunicazione rinnovo l'invito a eventuali interventi e desideri di chiarimenti relativi alla giornata e alle relazioni di oggi c'è qualcuno dei presenti che vuole prendere la parola vedo che non vedo mani alzate ringrazio ancora i relatori che si sono avvicendati a questo tavolo in questa giornata l'appuntamento è per domani l'ultima giornata di questa serie di incontri dedicati a Beppe Fenoglio ad Alba alle 9.30 se non correggetemi se sbaglio nell'auditorium della Ferrero ad Alba appunto grazie a presto arrivederci